Ciao belli di zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Ragazzi la storia di oggi è particolare, un po' diversa dal solito, ma al tempo stesso comunque molto inquietante. Scoprirete presto il perché. Prima di cominciare, grazie perché siamo già a 3000 iscritti, wow, quindi a quanto pare questi video vi stanno piacendo e non sapete quanto sono felice di questo. Ma adesso basta con le cazzate e iniziamo con la storia di oggi. La nostra storia comincia nel 2006, in quell'anno un uomo di nome Dave Murphy era appena diventato poliziotto nella città di Salt Lake City, nello stato dello Utah. Il suo ruolo all'interno del dipartimento era quello di guardia di sicurezza ed era stato incaricato di sorvegliare alcune strutture della città. Una di queste era il teatro di Capital City, un edificio molto importante per la città, costruito agli inizi del Novecento. E sapete che in America gli edifici del 1900 sono considerati tipo preistoria. Ma comunque nei primi giorni di agosto dello stesso anno, Dave si ritrovò nel teatro come guardia al suo primo giorno di lavoro. Conosce subito il suo collega Morgan Matthews, un altro agente che lavorava già lì. Morgan lo porta subito nella sala di controllo situata al piano terra. Dentro la camera di controllo c'erano un sacco di schermi, ognuno per ogni telecamera presente all'interno del teatro. All'epoca non erano molto avanzate le telecamere e dagli schermi le immagini riprese erano sfocate e funzionavano solo se c'era abbastanza luce. E la maggior parte del tempo, soprattutto di notte, non c'era. Il teatro comprendeva tre piani e anche un seminterrato. Una volta vista la sala, Morgan dice a Dave che era arrivato il momento di andare a fare la ronda per essere sicuri che tutto fosse a posto. Porte bloccate, luci spente e che questa cosa andava fatta ogni volta all'inizio e alla fine del proprio turno di lavoro. Morgan porta quindi Dave nei sotterranei. E subito rimane stupito perché non si aspettava che fossero così immensi. C'era un corridoio enorme, pieno di porte ai lati. E alla fine una stanza enorme con un vecchio pianoforte nel mezzo. E già qui, mi licenzio. Controllarono che tutto fosse ok e salirono sopra per verificare che anche negli altri piani non ci fosse nulla di strano. Controllati anche gli altri tre piani, i due tornarono nella sala di controllo. Dove Dave cercò di fare qualche domanda al suo collega per cercare di conoscerlo meglio, visto che avrebbero dovuto passare molte ore insieme. Ma Morgan sembrava molto freddo e non voleva parlare molto. Disse che sembrava quasi che Morgan per tutto il tempo non aspettasse altro che la fine del turno. Non vedeva l'ora di uscire dal teatro e sembrava quasi che il fatto di stare là dentro lo turbasse. Nei due giorni successivi continuarono a fare le ronde insieme. Ma già dal terzo giorno, Morgan pensava che fosse sufficiente per Dave. Ora era pronto per farle da solo. Cominciò così a fare il giro partendo dal semi interrato. Controllò le porte, le luci. E tutto era ok. Passò poi al primo piano dove c'era anche la sala di controllo. Andò nell'auditorium per vedere che non ci fosse nessuno. Eppure qui nulla di strano. Al secondo piano, idem. Guardò tutte le stanze e le balconate per poi andare al terzo piano dove c'erano gli uffici dello staff. L'ultima stanza che controllò era senza porta. Così accese le luci. Guardò velocemente sporgendosi senza entrare che non ci fosse nessuno. Anche qui nulla di strano. Andava tutto liscio. Spegnendo la luce della stanza e facendo per andarsene però, sentì un rumore fortissimo di una porta che sbatteva. Il rumore proveniva dal fondo del corridoio dove c'era un bagno. La prima cosa che Dave pensò fu che qualcuno si era nascosto là dentro e aveva aspettato che fosse passato per poi correre fuori. Prese subito la radio e avvisò Morgan che c'era qualcuno al terzo piano. Morgan però dalla stanza delle telecamere non aveva visto nessuno. Dave estrasse così la pistola e andò a cercare dove potesse essere andato. Lo raggiunse anche Morgan. Pensarono che magari quel rumore poteva essere di qualcuno che si era chiuso dentro anziché andarsene. Una cosa però non tornava. Era impossibile che la porta del bagno avesse fatto quel rumore perché era una di quelle porte con l'accompagnamento automatico. Entrarono quindi tutti e due nel bagno quelle armi puntate ma non trovarono nessuno. Di sicuro allora quel rumore lo aveva fatto qualcuno che se n'era andato dal bagno. Decisero così di andare a cercarlo in giro per l'edificio. Al terzo piano tutte le porte erano chiuse e in quelle poche aperte non trovarono nessuno. Scesero così al secondo piano. Mentre stavano scendendo Dave vide una luce accesa provenire dalla porta che divideva il secondo piano dalle scale. Chiese a Morgan se avesse acceso lui le luci perché era sicuro che poco prima aveva controllato ed erano spente. Morgan però rispose di no. Pensarono quindi che chiunque si trovasse nel bagno le aveva accese mentre scappava. Arrivati al secondo piano non solo trovarono le luci accese ma anche tutte le porte spalancate. Cercarono così in ogni stanza ma nulla. Spensero tutte le luci e chiusero di nuovo le porte. Andarono poi al primo piano ma lì era tutto normale. Mancava soltanto il semi interrato e i due erano spaventati perché erano sicuri che lo avrebbero trovato lì. Visto che era l'ultimo posto rimasto e le uscite erano bloccate. Ma anche nel semi interrato assolutamente nulla. Decisero di tornare nella sala controllo per vedere le registrazioni dei filmati. Ma le telecamere purtroppo non riprendevano direttamente la porta del bagno. Soltanto il corridoio appena fuori. L'unica cosa che videro fu Dave che controllava la stanza. E mentre spegneva la luce quel tremendo rumore. A questo punto erano entrambi molto preoccupati. Decisero di fare un altro giro ma non trovarono niente di nuovo. Erano sicuri di quello che avevano sentito. Ma alla fine si rassegnarono perché avevano controllato ovunque e non avevano trovato nessuno. Un paio di giorni dopo l'11 agosto Morgan stava facendo il turno da solo. A un certo punto durante la notte mentre si trovava nella sala di controllo sentì qualcuno sussurrare qualcosa nella stanza vicina. Dopo quello che gli era capitato pochi giorni prima Morgan si preoccupò subito. Tirò fuori la pistola e andò a controllare. Appena uscì dalla stanza però sentì che queste voci provenivano dalle scale che portano o al secondo piano oppure nel semi interrato. Quando raggiunse le scale capì che il rumore proveniva dal piano di sotto. E sentì come se qualcuno stesse tossendo. A quel punto Morgan disse che era davvero spaventato. Scese lentamente le scale ma appena arrivò nel semi interrato i colpi di tosse si fermarono. Accese le luci e non c'era nulla. Tutte le porte erano chiuse. Da una di queste però arrivava una puzza di fumo. Controllò tutte le stanze mentre l'odore di fumo si faceva sempre più forte. Morgan non sapeva cosa fare. Avrebbe voluto chiamare i pompieri ma avendo già controllato ovunque che cosa avrebbe dovuto dirgli. Si convinse così che forse era un problema suo ed era stato soltanto lui a sentirlo. Tornò nella sala di controllo e quella notte non successe più nulla di strano. Un paio di settimane dopo però il 4 settembre Dave era appena arrivato per il turno serale. Era arrivato in anticipo di circa mezz'ora. Mentre entrava vide tre uomini dello staff parlare. E passandoci vicino sentì che uno di loro stava raccontando di una storia su dei fantomatici spiriti all'interno del teatro. In curiosito si intromise nella conversazione e uno di questi gli raccontò una cosa strana che gli era capitata a lui qualche anno prima. Si trovava al terzo piano dove c'erano gli uffici. Erano circa le 9 e 10 di sera. Stava lavorando tranquillo e ad un certo punto l'ascensore che si trovava dritto davanti al suo ufficio si aprì senza che nessuno lo avesse chiamato. E senza nessuno al suo interno. Lui pensò ovviamente che fosse un problema dell'ascensore ma la porta non si chiudeva più. Andò quindi a vedere e la spia segnava che qualcosa in mezzo stava bloccando il sensore. E quindi non potevano chiudersi le porte. Entrò quindi nell'ascensore e la porta a quel punto si chiuse. Disse che sentì che la temperatura era diminuita e il pulsante del primo piano sottoterra si era illuminato da solo. Come se qualcuno l'avesse premuto. Pensò che stesse accadendo qualcosa di strano e che era impossibile che l'ascensore fosse impazzito in quel modo. Quando la porta si riaprì urlò Ehi c'è qualcuno? Nessuno rispose e allora tornò sopra nel suo ufficio. Come se nulla fosse successo si sedette di nuovo alla sua scrivania. Appena si rimise a lavorare sentì subito che qualcuno stava sbattendo qualcosa di metallico fuori dal suo ufficio. Andò a vedere e i cassetti degli schedari erano stati tutti aperti. E ad uno ad uno li vide chiudersi da soli davanti ai suoi occhi. Sconcertato prese tutta la sua roba e se ne andò. Dave rimase sconvolto. E quella sera durante il turno decise di raccontare a Morgan quello che aveva sentito. Morgan gli rivelò che quando lavorava da solo aveva sempre la sensazione di essere osservato. A quel punto gli raccontò quello che gli era successo nelle settimane prima, quando Dave non c'era. Cominciarono un po' a parlare e pensarono di essere entrambi suggestionati e che non ci fosse nulla in realtà. Decisero così di invitare una terza persona con la scusa di farle fare un giro di notte nel teatro. Per vedere se per lui fosse tutto normale e quindi capire se erano solo loro due a sentire quelle cose. Dave invitò così il suo miglior amico, Greg, che era molto emozionato all'idea di visitare il teatro di notte. Così, il giorno dopo, erano in tre. Gli fecero fare tutto il giro del complesso ed era tutto tranquillo. Arrivati nel semi interrato, però, notarono che una porta era aperta. Dave e Morgan si allarmarono subito, tirarono fuori la pistola, ma mentre si avvicinarono, la porta si chiuse bruscamente. Greg, spaventato, chiese subito che cosa stesse succedendo. Neanche il tempo di finire la frase, che la maniglia cominciò a muoversi violentemente. Appena smise, Dave e Morgan si guardarono e pensarono di andare a vedere subito. Greg era spaventato, ma piuttosto che rimanere da solo, li seguì. Entrarono, ma né Dave né Morgan videro nulla. Da dietro, però, Greg urlò che c'era qualcuno nell'angolo. Puntarono subito le pistole, ma non videro nulla. Non c'era niente. Greg disse che giurava di aver visto qualcuno seduto per terra, con una maglietta lacerata addosso. I due erano disperati, perché al posto di negare che effettivamente là ci fosse qualcosa di paranormale, ora erano in tre a confermare che qualcosa non andava. Salirono tutti al primo piano, e Greg se ne andò. Riferirono tutto quello che avevano visto e sentito. E nel teatro vennero installate delle telecamere ad infrarossi, nel caso ci fosse stata davvero qualche persona che riusciva a entrare e uscire. Da quel momento non successe più nulla di strano, fino al 15 settembre, quando Morgan, durante il turno della notte, vide una figura strana su una telecamera ad infrarossi, all'interno del teatro. Era come se ci fosse qualcuno seduto nel bel mezzo della sala. Poteva distinguere chiaramente due occhi, e prima che potesse fare qualsiasi cosa, vide la figura iniziare a salire verso il soffitto, per poi sparire nel nulla. Dopo aver visto questa scena, Morgan se ne andò, e il giorno stesso si licenziò. Un paio di settimane dopo che Morgan aveva abbandonato il teatro, Dave, durante un turno di notte in cui era da solo, sentì suonare un pianoforte nel bel mezzo della notte. E l'unico pianoforte presente era quello nei semi interrati. Si diresse subito verso il pianoforte, per vedere se ci fosse qualche intruso nell'edificio. Mentre si stava avvicinando, la musica diventava sempre più forte. Appena arrivò vicinissimo alla sala, però, la musica si fermò, e la parte in legno che copre i tasti del pianoforte sbattè fortissimo. Guardò dentro, ma come al solito, non c'era nulla. Tornò quindi nella sala di controllo, si chiuse dentro, e pensò che era stufo, e che quella era l'ultima notte che avrebbe passato lì dentro. Il giorno dopo andò dal suo superiore e gli disse che se lo avesse rimandato nel teatro, lui si sarebbe licenziato, quindi fu trasferito. Nei due mesi successivi non riuscirono a trovare nessuno che rimanesse a lungo durante il turno di notte. Tutti quelli che ci provavano, dopo qualche giorno si licenziavano, o anche loro chiedevano di essere trasferiti. Fino a che il 26 novembre, Josh Thomas, un ex poliziotto veterano, accettò di lavorare a tempo pieno lì dentro. La prima notte non successe nulla. La seconda notte, Dave, che era stato spostato al di fuori del teatro per fare delle ronde dell'edificio con un'auto di pattuglia, sente Josh chiedere aiuto. Entrò velocemente perché pensava fosse suo dovere aiutarlo dopo quello che aveva visto lui. Josh disse che era successo qualcosa di strano con l'ascensore, e che sicuramente ci fosse qualcuno all'interno dell'edificio. Ovviamente non aveva trovato nessuno, così fecero un giro insieme, dato che Dave conosceva molto meglio l'edificio. Durante il giro si trovarono a parlare nella sala principale, più precisamente sul palco. Dave dava le spalle alla platea, e mentre stavano parlando, vide John fare una faccia spaventata mentre guardava alle sue spalle. Girò la testa, e vide subito in fondo al teatro una persona. Era in mezzo al corridoio, aveva le braccia dritte aderenti al corpo, e la testa acchinata a guardare il pavimento. Appena Dave si girò completamente per vedere meglio, quella figura tirò subito sulla testa e li fissò. Aveva gli occhi incavati, la faccia sfigurata da segni di bruciatura, e soltanto qualche brandello di vestiti addosso. Si girò di scatto senza dire nulla, e corse via. Josh pensò subito che si trattasse di qualche ladro, e voleva corrergli dietro. Ma Dave a quel punto gli spiegò tutto quello che gli era capitato, e il motivo per cui lui e Morgan avevano lasciato il lavoro. Quella fu l'ultima volta che Dave entrò nel teatro. Continuò però a fare ricerche, e scoprì che negli anni 40, in quel teatro era avvenuto un orribile incendio, nel quale morì un uomo che era rimasto bloccato nel seminterrato. Informò anche Morgan di questo fatto, ed entrambi a quel punto erano convinti al 100% che quelle strane esperienze che avevano vissuto erano sicuramente dovute dal fantasma di quell'uomo. Direi che è arrivato il momento di organizzare una bella gita proprio in quel teatro. Ve lo giuro ragazzi, ci andrei subito, tipo... Cioè, voglio vedere anche io queste cose. Questa comunque era la storia di oggi. Come al solito non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensate. E fatemi sapere soprattutto se anche a voi sono capitate cose simili. Come sapete io amo il paranormale, e trovo che queste storie siano comunque sempre interessanti. Ovviamente, dobbiamo fidarci delle loro parole. E sebbene qualcosa sembra un po' esagerato, i tre giurano tutt'oggi di aver vissuto queste esperienze. Tant'è che cavolo, Morgan si è pure licenziato. Io adesso vi ringrazio per la visione, e come al solito vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro faia. Ciao! Ciao!